Vanno libero Vabbè cagare Mi ha preso l'ela No Cazzo E niente È volato Salvalo per favore Fa la clip Tu che idea avresti per il mio Totò Ma come Totò Cosa ho pensato Dai io vado Ci sentiamo Vedi di stare qua Dov'eröcci Ma che c'era Le undici meno venti Cosa avrei Stacquavvera C'è Ma che c'è Ma che c'è Mimimi 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 Un titone non posso farlo teffano vuoi vivere? sembra di avere un esaurito non so più che dire sei un privilegiato non hai il diritto di parlare di queste cose ah beh le donne nazifemmini Femministe sono proprio cioè com'è che si quale qual è la parola che le descriva esattamente Adesso questa è la salta e la metto su tiktok e diventiamo famosi grazie a questa cosa si grazie grazie Non hai capito la tua situazione in questo momento Un missile Non puoi ucciderlo robbie ah no no Dovete scappare voi L'ultimo che rimane può raccontellare L'ultimo che rimane può raccontellare Quel minchione Ah no No Vabbè No 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 Ragazzi Lo facciamo Io devo essere l'ultimo a salire Tutti a seguito di Diego Che da sopra Veloci Io via 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 Su su Oh nyenni No 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 Ilmanas del c***o Ma che giocatore signori Italia corona Italia corona Il minimo si è Francia Bellissimo Attico Ma ragazzi che cazzo state dicendo? Io mi smutto e siete tranquillo Che cazzo è tranquillo? Un cazzo stiamo perdendo Poi per favore chiude la chiamata Ra non sto Non sono in chiamata C'è il video chiamata Non sono in chiamata Bro sei su Skype Poi si chiude la chiamata Stai in diretta nazionale tv Poi dov'è la televisione Bro invece di mandare fax Perché non giochi Per favore Per favore Con la team Per favore Bro ma sei tranquillo Voglio dire E' fatta E' tranquillo Non è nemmeno E' fatta E' fatta E' fatta E' fatta E' fatta E' fatta io mi raccomando o al cavallo e la connessione ma io dico no o quali quel membro della mia famiglia si sta starbando i porno o l'altro come cazzo fa la gara penso tuo padre questo punto orix col pompa il drone alle ore johnny cacciotta porco dio che viene ucciso per rubare johnny cacciotta la mamma è una puttana ok io 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 oh france dude i love france paris i love baguette i love baguette in your ass no you f**ing ass in your mom's ass sorry Ehm... So, shut the fuck up. No, 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 bro. I don't hate you. I love friends. And you, where are you from? Italy. Italia, mmm. Pizza, pizza, 4 fromages! 4, mmm, 4 sofas! Ehm... Poi raga, non possiamo trovare gente di... araba. I server sono europei. Ma... eh... ma no, lui è di... France. Si, appunto. S'europei. Ma che c'entra? Guarda che... non è... Dio, c... è l'Inghilterra che è fuori dall'Unione Europea. Si, ma anche l'Arab. Ma... Mie francese! Ehm... 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 Quel coglione che ci casca pure. Assurdo. F***i...